Da poco terminati i controlli su un terreno in agro di Pozzilli, la questione è quella dell'eventuale inquinamento da metalli pesanti. Stamane, come peraltro annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, il sopralluogo di tecnici ASREM dell'Istituto Zooprofilattico. L'intento è quello di verificare l'eventuale presenza di metalli pesanti nei terreni. La questione, lo ricordiamo, scoppiata a seguito del report della procura della Repubblica di Sernia, da cui era immersa la presenza di cadmio e di altre sostanze potenzialmente tossiche in alcuni appezzamenti della piana di Venafro, ricadenti nei comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano, a preoccupare, come rimarcato dal procuratore Capo Fucci, il fatto che parte delle aree individuate fossero coltivate. I controlli di stamane, un po' come già fatto autonomamente a loro spese da alcuni imprenditori agricoli locali, non hanno riguardato direttamente il terreno, bensì prodotti agricoli. In proposito, subito dopo il sopralluogo, le dichiarazioni del dottor Antonio Pesaturo del Dipartimento Prevenzione ASREM. C'è stata una richiesta di approfondimento per vedere se su questi prodotti c'erano dei residui chimici di metalli pesanti. Ora siamo in attesa dei risultati, non possiamo dire niente. Il prelievo è stato fatto a campione, ne farete altri? Sì, è stato fatto a campione, speriamo che siano sufficienti, altrimenti se ci sono dei dubbi faremo altri campioni. La questione riguarda anche Venafro e Sesto Campano? Sono in programma altri prelievi, sì. Anche in territorio di Venafro e Sesto Campano? Sì, Sesto Campano, Venafro ancora non abbiamo avuto segnalazioni in merito. Tecnicamente che cosa avete fatto? Abbiamo raccolto delle foglie di ortaggi che ora andranno analizzate. Quanto tempo ci vorrà per l'esito? Non lo so dire perché è un problema dell'istituto zooprofilattico che adempiera questi compiti. Da Pozzilli il prossimo step dei controlli congiunti, istituto zooprofilattico e ASREM riguarderà dunque il territorio di Sesto Campano. Fin qui non risulta analoga richiesta da Venafro. È questione assai delicata in corso di valutazione. Ci ha detto stamane il sindaco Alfredo Ricci che abbiamo intercettato nell'ambito di un appuntamento istituzionale tenutosi proprio a Venafro.